30 settembre 2021. Anche quest'anno facciamo il nostro tour in centro Italia grazie agli amici marchigiani. Ehi, hai dormito come la volpe? Bene, bravo, complimenti. Ehi, hai dormito. Ehi, hai dormito. Ehi, hai dormito. Ma ti per caso... Adesso. Ecco si ti può riassumare. No? No di niente. No, no non ho r casa. Grazie a tutti. Al risveglio ci troviamo con 7 gradi, ma basta poca strada sopra le nuvole e la temperatura sale notevolmente. Al risveglio ci troviamo con 7 gradi, ma basta poca strada, ma basta poca strada, ma basta poca strada, ma basta poca strada, ma basta poca strada. Grazie a tutti. Non avevo capito. Sai come si ordina il caffè? Ciao, come! Non è meglio vedere come si ordina il caffè. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.